Vai in alto e poi? Poi se trova con l'interno di fredda si solidifica e nevita Questo è il problema Vabbè, vediamo qua Questa che vedete tra l'altro è la parte russa della stazione spaziale La parte russa della stazione spaziale La parte russa della stazione spaziale Il secondo collegamento Allora, abbiamo visto qualche immagine della stazione Chiudiamo questo capitolo E' successo di tutto, di più Tra i liquidi Il sudore I capelli bagnati La cannella dell'acqua Allora, diciamo così Primo, sei in una situazione di microgravità apparente Perché la gravità c'è Perché stai cadendo Non ti sta fermando niente Sostanzialmente tutto galleggia Le cose non sanno più dove è alto Dove è basso Nessuno sa dove è alto Dove è basso sulla stazione E quindi sostanzialmente Non si muovono Seguendo questa gravità E quindi sostanzialmente